Un vero e proprio esame di maturità attende domenica la Virtus Francavilla, che alla Francione di Latina vuol provare a cancellare lo zero dalla casella delle vittorie in trasferta in questo campionato. E squadra che vince, ma soprattutto convince, non si cambia nel 3-4-2-1 Biancazzurro. Infatti, a meno di sorprese dell'ultima ora, dovrebbero trovare spazio gli stessi 11 calciatori che sono scesi in campo dall'inizio negli ultimi tre incontri di campionato. In attacco, ovviamente, sarà Patierno il punto di riferimento a caccia del titolo capocannonieri e in lotta continua con Iemmello a supporto. Invece, il tandem tutto qualità e fantasia, composto da Murillo e Maiorino, Risolo e Di Marco, al centro del campo con Cisco e De Marino sulle corsie esterne. In difesa, infine, il trio composto da Minelli, Idda e Caporale. Piccola curiosità, i Pontini sono state tra le tre sole squadre uscire indenni dalla nuova Red Arena in questa stagione. All'andata, infatti, la squadra di Di Donato riuscì a bloccare la Virtus sullo 0-0 dopo 90 minuti intensi ed equilibrati. L'appuntamento per la rivincita è in programma domenica alle ore 14.30.